E' una storia che ha dell'incredibile, quella dell'84enne Maria Mancini di Polignano Amare, morta stamattina nell'ospedale di Monopoli, molte ore dopo essere stata aggredita nella sua abitazione. Una storia che dalla violenza passa alla presunta mala sanità. L'84enne, che trascorreva le giornate in casa da sola e la notte dai parenti, è stata prima aggredita nella sua abitazione, ieri intorno alle 14, poi è morta nel nosocomio di Monopoli, dove era stata accompagnata da una vicina di casa. E' morta nonostante al pronto soccorso le fosse stato diagnosticato un trauma cranico con una prognosi di tre settimane. L'84enne dunque era stata sottoposta ad una visita neurologica per un'ecchimosi alla regione parietale, era stata giudicata guaribile in 20 giorni e trattenuta in osservazione nel reparto di chirurgia. Da un controllo fatto in casa della donna, dai familiari e dagli investigatori sembra che non manchi nulla. Il sostituto procuratore della Repubblica di Bari, Manfredi Di Niciacci, ha disposto l'autopsia. Grazie.